Avete lottato in questi anni per mantenere la scuola, la scuola di Maiano ci sarà e soprattutto ci saranno anche dei nuovi studenti quando verrà riaperta. Ci vuole dire qualcosa a proposito? Sì, sicuramente. Rimangono aperte pure quest'anno le scuole. Noi abbiamo quelle dell'infanzia e la primaria, grazie all'impegno del dirigente, dei docenti, personale ATA e genitori soprattutto, e l'impegno costante di questa amministrazione, che attraverso l'attivazione proprio di quel progetto sai che tu dicevi, l'altro ieri sono arrivati cinque ragazzi e ne arriveranno altri dieci. Quindi con questo noi possiamo andare avanti, ci permettere di andare avanti. Stiamo appaltando un lavoro di circa 900 mila euro sulle scuole per l'adeguamento sismico e l'efficientamento energetico. Ok, quindi grandi investimenti a Maiano-Vetri sull'istruzione. In questi giorni ho sentito qualche ragazzo di Maiano, l'associazionismo maianese è molto attivo e tra l'altro però era molto frazionato. Ho sentito che è stato insomma un tuo merito quello di aver riunito questi ragazzi affinché collaborassero per questo ricco calendario eventi. Sì, siamo riusciti a mettere insieme tutte le associazioni finalmente per una sola programmazione che non vi era da molti anni. E ringrazio per questo soprattutto i presidenti di tutte le associazioni e tutti i componenti. Il programma è partito con una proiezione cinematografica per bambini già da qualche giorno all'aperto. Poi seguirà Scatta Maiano nella seconda edizione. Abbiamo in corso dal 31 al 6 agosto la diciottesima edizione Festa, Farina e Forca, Sacra del Cavatiello Maianese. In linea con la dieta mediterranea dove si potranno gustare i piatti tipici del posto. Abbiamo antipasto, cavatiello con suco semplice e castrato, abbiamo trota e salsiccia rostita, ricchi contorni e dolci accompagnati dal vino locale prodotto dall'azienda agricola Russo Carmine. Seguiranno poi a fine della Sagra i festeggiamenti in onore della patrona Santirene. Per il ferro agosto 2023, organizzato dalla Proloco, vi aspettiamo, Opuzza e Raffaele, un angolo di paradiso delle gole del calore. Poi si conclude la festa delle emigranti il 16 agosto, svolta in collaborazione tra tutte le associazioni e il comitato parrocchiale, con la partecipazione straordinaria di Beppe Tenti, imprenditore, produttore televisivo, direttamente da Overland.